Salve a tutti! Allora io ho scoperto da ieri questo sito perché cercavo un sito che permettesse di guadagnare con le foto, con le visualizzazioni delle foto e ho trovato questo sito qua che ti paga su Paypal e guadagna una volta raggiunti i 15 dollari e ti paga ogni 48 ore, il guadagno lo potete vedere e si chiama click a snap, praticamente si può, è tipo un social praticamente come vedete, ecco questo è il mio profilo e aspettate, ho sbagliato, a cliccare, scusate, questo è il mio profilo, queste sono le foto che ho messo per il momento ho messo poche foto, solo per farvi vedere il sito, ecco, poi andando su explore si possono esplorare varie categorie di foto delle persone, come vedete, vedete, ci sono tutte le categorie e comedi, fotomanipolazioni, ambastracte, edge art, qualsiasi foto, vedete, qualsiasi foto si può esplorare, si può cliccare, si deve cliccare sulla foto, ci sono delle stelle, ci sono da dare 5 stelle se vi piace la foto oppure 3 stelle, 4 stelle, 1 stella e poi potete anche commentare le foto sotto, andando sotto a ogni foto, vi faccio vedere per esempio, mi piace questa, allora, mi piace questa, vado qui, faccio così, clicco ho dato le stelle, ho dato le stelle, poi sotto, guarda, scorro sotto, scorro sotto, scorro sotto, su qui commenta, scrivo quello che voglio e poi si aspetta che vi rispondano le persone, cliccando su submit si invia il commento che compare subito sotto, ecco, è così che funziona poi andando su upgrade, qui upload, si può vedere, si può caricare le immagini, ecco, io ho l'account gratuito e quindi con l'account gratuito posso fino a 20 immagini, posso mettere, ecco, al giorno poi andando su upgrade invece si vede quanto le tariffe, ecco, se si vuole essere più professionali, vedi, vedete all'anno queste ecco iscrizione gratuita su questo sito quindi, ecco 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 Grazie a tutti.